Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono rallentamenti per materiali dispersi tra Aglio e Barberino in direzione Roma. Si ricorda la chiusura della statale 12 della Betone e del Brennero a Borgo a Mozzano al chilometro 40 e 500 a causa di una frana. Su raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale a bordo siano catene o gomme termiche sulle autostrade e strade a lunga percorrenza. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!